Il prossimo 25 gennaio è il giorno dell'udienza preliminare al Tribunale degrigento per i coinvolti nell'inchiesta denominata alta tensione che portò i primi giorni dello scorso marzo all'applicazione di alcune misure cautelari. L'attività investigativa dei Carabinieri su coordinamento della Procura della Repubblica era partita nell'ottobre del 2014 per concludersi nel 2016 ha avuto il focus sull'attività di due verificatori dell'Enel, il 60enne grigentino Giovanni Trupiano e il 63enne narese Domenico Laporta. Ai due verrebbe contestato di avere adempiuto atti contrari ai doveri d'ufficio in quanto avrebbero intascato tangenti per chiudere un occhio sui controlli ed evitare di denunciare eventuali furti di energia elettrica. Nella maggior parte dei casi sarebbero stati anzi gli stessi verificatori a proporre allacci abusivi tramite l'uso del magnete o del cosiddetto sistema del sorcio al fine di risparmiare illegalmente sul costo della corrente elettrica. La lista conta una ventina di indagati tra i reati contestati, il furto, la truffa e la corruzione. Coinvolta nella vicenda anche una donna canicattinese che avrebbe fatto da intermediaria tra Trupiano e Laporta e i clienti. Tra questi ultimi ci sarebbero commercianti, esercenti e professionisti di diverse zone dell'agrigentino. Durante l'udienza preliminare i difensori avranno la possibilità di richiedere eventuali riti alternativi.